A questo punto il Podestà di Lecco elogia il Conte Ducca di Olivares, brindando in suo onore, dopodiché l'avvocato Azzecca Garbugli si lancia in un elogio del vino e dei banchetti organizzati da Don Rodrigo, nel cui palazzotto la carestia non entrerà mai. Nell'elogio del Podestà di Lecco possiamo vedere quell'atteggiamento servile della nobiltà nei confronti della dominazione spagnola. Infatti quando il Podestà di Lecco elogia il Conte Ducca di Olivares, tutti brindano in onore del Ducca, mostrando così il loro servilismo nei confronti della corona spagnola che a quell'epoca dominava lo Stato di Milano.